Cicciolina e i capolavori dell'arte erotica. Le gallerie degli uffizi di Firenze sono pronte a far partire una diffida nei confronti di Pornhub, portale di intrattenimento per adulti, per l'uso non autorizzato di immagini di opere d'arte, in particolare la celebre Venere di Botticelli, custodita nel Museo Fiorentino. Il contenzioso nasce dall'iniziativa lanciata dal sito per adulti, un'audio guida ai capolavori dell'arte erotica presenti in alcuni dei musei più importanti del mondo. Le bagnanti di Cézanne, la maia desnuda di Goya, le statue in marmo di Afrodite, ma anche la Venere di Urbino o la nascita di Venere di Botticelli. Come testimonial dello spot che promuove l'iniziativa è stata scelta la porno star Ilona Staller, in arte cicciolina, che interpreta proprio la Venere di Botticelli. Da qui la volontà di far partire una diffida nei confronti della società lussemburghese, proprietaria del sito Pornhub, che non ha chiesto né ottenuto nessuna autorizzazione, dal museo diretto da Eike Schmidt per l'uso delle opere di Sandro Botticelli.